La regione Wall Street, calcio a 5, si sfidano United e Fenerbahce. Se poi a fine partita intanto metà te ne racconto, io gli faccio pagare, gli faccio la metà. 1 a 0, lì ma... E' di vantaggio. L'uomo a cui non piace unico il fai. Per me, se poi, c'è una nuova. Per me! 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 9 2 2 3 3 3 4 4 4 4 Bravo! Bravo! Tolle! Gaglia 1! Va bene! Va bene! Oh! Funzione un po' mostruosa! Subito tre pari! Subito tre pari! Tre pari fino al bacio! La nozione di Andrea Lecaminis! Vai vai! Che c'è da Giorno! Giorno! Quattro a tre missina! A presto! Giorno! 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 Parigi! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.